Ora posso dire che barca è EOS 46? Una barca di valore, tecnologico, di rifiniture, di linee, il cercare la perfezione nel realizzare le cose in maniera tecnologicamente perfetta. Una barca che potesse rappresentare la qualità italiana. L'Italia è piena di barche belle, questa la ritengo altrettanto una barca molto bella, è un po' diversa, proprio un po' innovativa. Io un po' mi sono permesso di cercare, di inculcare, di indicare alcune cose che io ritengo in base alla mia esperienza, che non è grandissima, tuttavia supera i 25 anni di imbarcazioni e quindi di fare un qualcosa che si differenziasse. Questa è un po' poi la mia filosofia della mia vita, non stando nella moda, non è che cerco sempre le cose classiche e ripetitive, ma cerco sempre per il brand che io porto qualcosa di innovativo e di diverso. Io intanto ho comprato perché sono convinto, anche perché un pizzico, non voglio essere presuntuoso, però un pizzico di idee che ce l'ho messa pure io. Mi auguro di non aver sbagliato, ecco tutto qua.